il mio amico il mio amico è un po' di grano la miglior pasticchia è un po' di grano la miglior pasticchia è un po' di grano guardate dove questo è il caso torno allora guardate c'è fame guardate guardate con quanti bei dolci com'è? ti piace? guardate qua sta uscendo qualcosa? sta uscendo qualcosa? ok ok vediamo tu ma se vuoi prendere qualcosa ci mettiamo seduti intanto dolce che vuoi? dolce salato salato vuoi? ehi ehi prendi prendi quanti ne vuoi? 4? 5? 1? uno? un panino vuoi? intanto ci dai un panino come lo vuoi? è così vedete ci sta dentro questo ci sta prosciutto che c'è sta qua dentro? bezzavola e rucola bezzavola e rucola bezzavola e rucola bezzavola e rucola ma forse è molto pettissimo ti piace? bello bello ti piace questo? no no quello ok prendiamo un panino prendiamo quello lì ok? si eeeh boh per me voglio provare una di questa si si è una robita del picco si buco uno per su ora vuoi? vuoi la bere si la bere non so tu che vuoi coca? si la cosa tu ora per due ma una pizza? una pizza? che pizza volete ragazzi? e vabbè di pizza non è che c'è c'è sta o questa o questa o questa si si sta uscendo io che ci 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 no ci 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 Sì 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 Così ci vedi? Guardi I documenti E contro luce Sì 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 Del soffio. Come la vuoi la pizza? C'è pizza c'è, la mostra c'è. È tutto, quello che fate, te lo fanno. Tutto ciò, margherita e cotto e frutto pizza. Com'è c'è? Cotto e frutto. Cotto e frutto, sì sì. Ora vuoi la pertama. La alta, la alta. Det Nord 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 . E' un buon poеро. Di iıyla come c'è? Di i biasi. Perchè la vite. Siamo pronti. Sì, grazie, ciao. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. 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 non mi chiede sto pensando eh adesso ce lo vanno adesso 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 come sta? un po la panciola? io vediamo 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 ok vediamo se la vediamo ancora adesso si se la vediamo si se la vediamo ok allora adesso uno al zoccolato e una una città e una 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 città Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ciao G. Ciao G. Ciao G. Ciao G. Ciao G. Come stai in questa maratona ancora? Male. Male come male? Eh troppe ore cazzo. Quanti giorni? Nove? Dieci giorni. Dieci? Stasera è il decimo giorno. Secondo me se non abbassi il timer questa va avanti all'infinito. Perché c'è stato almeno un ricircolo dei soldi. Ma che dei soldi? No solo perché oggi uno mi ha donato 1200 euro stanotte. E' poca ragazzi viene quello la come... Si. Ma non so così gli ha chiappato i 5 minuti ma... Così. Beh buoni 1000 euro. Che fai buoni 1000 euro? Eh però io volevo staccare cazzo perché dopo dieci giorni insomma... Se non stacchi... Se non abbassi... No io non stacco più fin quando il timer non arrivo a zero... E' vero? Dopo... Come si è detto vacanzone all'Hawaii. Esatto. Te fai una bella vacanza all'Hawaii. Io te l'avevo offerta tipo... Te l'avevo detto vieni... Si però da solo non me la sento la fine chat. Eh è un po' difficile da solo. Come spalla magari ma da solo è tosta da solo. Beh per variare possiamo fare qualcosa insieme. Per variare possiamo fare qualcosa insieme. Come no? Se può fare quello insieme. Per variazione te lo dico. Io... Magari porti la canzone e ti fai un bel mix in live. Esatto. Un mix in live. Io ci sto dalla mattina fino al prima di cena. Raga lo volete un mix? Un DJ qui? E' un DJ Petraos. E' un DJ Petraos. E' un DJ Petraos. Eh. Tutto vestito bene oggi? Tu vai qua c'è tutto... Niente. Io vado sempre nella rotinia andando a sfogliare. Poi dopo... Questi quando hanno detto in là ti sai che mi assomigli? Eh. A uno un po'... No, 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 no. Ecco ci sbagliamo proprio ecco. Sì? Ci sbagliamo proprio. E poi ragazzi voi dovete sapere una cosa. C'è una leggenda di Petraos. Cosa? Dicono che... L'altezza significa... Cioè più uno è alto più uno c'è il cazzo piccolo. Ma... No. No? Non è il tuo caso? No, non è il mio caso. Dai spammati un po', magari c'è qualche donna che... Ma che mi spammo, che vuoi spammare. Può anche un po' intimo per spammarsi così. Sì? Eh, col cazzo lungo. Vabbè, però... Dillo, dillo, dai. Ma che... Beh, magari c'è qualcuno che gli piace pure, dai. Vabbè, ragazzo, contattatemi. D'attrezzo non... D'attrezzo sto messo abbastanza bene, grazie a Marenatura. Tipo? Eh, tipo. Tipo? Dai, dì. Dai. Eh, vabbè, dai. Il ventino ci sta, però. Il ventino? Eh. Te invece ci schianto? Il ventino. Che magello. Quindi, donne, se volete provare nuove emozioni, Petraus, su Twitch, contattatelo. Ah, magari c'è qualcuno che ti scrive, che ne sai? Magari. Tanto che ci ho capito, sei singolo, no? Eh? Sì, sì. Eh. Hai ancora fame? Vuoi prendere qualcosa da mangiare? Tanto l'offro io. Eh, oddio, un caffè più chiaro. Sono mangiato mo' il Mac, un attimo... Sicuro? Sì, sì, sì. Ok. Ma poi se tu hai visto il Rumec, che secondo madonna si è dispeso per Rumec? Cento... cento e cinquanta. Cento e cinquanta. Tutto finito? Sì. Vedi oggi per cacciare le panie all'aventro, cacciare il madonna. Eh, poi sono finiti. Tu pensa che... Tu pensa che ci stiamo, no? Non ci riuscivamo a uscire tra un tavolo e l'altro. Eh, ma questi sono troppo stretti. E' troppo stretti... E' troppo stretti e... Eh. E' un po' bello, va. E' grosso, eh. Marotto lo letto, marotto. Eh, stavo vedere l'età che tutte erano partite... Eh, tutte le dove... Tutte le dove... Tutte le dove... Vabbè, questo è il legno pieno, come fai proprio questo? Vai, prendi un caffè, tanto te lo trovo a frio. Ma andiamo un caffè. Eh? Andiamo un caffè. Sì. Qua è tutto finito? Questa non è finito? Eh, no, no. Anche io. Allora... Questi qua ti piacciono? Ma questi non li piedi? Vabbè, diciò, già. Questi sono le zeppoline fitte con crema sciantì, crema pesca e sono con il cacao. Ma questo con la panna? Quelle con crema sciantì, crema e crema insieme. Eh, le cose l'hanno incelate con la panna. Con la panna, qui se poi usiamo il maritozzo con la panella e la nutella... Allora, prendi un po' di gusto. Un po' di gusto. Allora, questi qua ti piacciono? Sì. Tutti. Come tutti. Tutti, tutti, tutti. La cassa della si può fare con la cassa? No, non ce l'ho la cassa. Mentre cassa, ma... No, non ce l'ho la cassa. Anche perché... Cioè... Se no era un magello. Eh, un magello sì. Le chiamate le hanno fatte chiamare pure? Le? Le chiamate c'è state oppure qua? Sì, sì, a voglia. C'è state? A voglia. A voglia. Meno... Di schianto pure tu? Certo. 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 Perché te ero grande? Eh? No, no, io no. Certo. Certo. Qualc'altro dolce di schianto. Ragazzi, sono questi, volete i dolci? C'è anche lo su inglese, dicevo... Quale vuoi? Vai, scegli. No, prendo tutti questi qua. No, non prendo tutti lo stesso. Quale vuoi? Dimmi. Ma prendo pure... Dove ne sei. Scegli, scegli. No, no, tranquillo. Io mangio quello che mangi tu, tranquillo. La bolla bassano qui. Ti piacciono queste con la frutta? Ti piacciono? No. No? No. Questi? Ma questi tutti? 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 Tutti e questi? Tutti? Eh, c'ha fame. Ma se... Allo gli stichi a mangiare o gli stichi aggischiando? Eh sì. Eh sì. Tutti, tutti. Tutto il vasso è siffiato? Eh sì. Sì. 150 euro di mezzo. Contento, ci spianto, almeno se mangia... Buo? È buono. Comunque grazie mille delle sub, Nicola, Irkovi, Rovi. Ho prodotto un speech. Eh? Ho prodotto un speech. No, no, io sono un mio sub. Da tanto tempo l'ho fatto una volta live con lui. Quanto tempo da? Eh? Quanto tempo? 21 mesi. Eh? Stanza. Quanto due anni? Quanto due anni? Quanto due anni? Quanto due o cassato? Eh... Cassato. Qualcos'altro rischiando? No, no, va bene. Per il momento va bene. Da bere? Da bere? Acqua, goga, che vuoi? L'acqua. Allora l'acqua ci sta a casa. Ah, il pane. I panini devi scegliere. I panini dopo si seccano, quindi ne prendiamo pochi, dai. No, prendi i miei. Giusto due o quattro. Perché a mangiare si è finito tutto a mangiare? Eh sì. Tutto quanti? Passo di tutto. Sì, grazie. Poi ci prendiamo anche... Quanti panini? Cinque? Cinque, sei. Cinque, sei panini. Panini? Panini vuoti o parciti? Panini... vuoti vuoti? Vuoti. Ma le ti giaggiate, a te. Lo sta vedendo a me. Che traosè! Sì. Sì, a te, a te. quanti caffè ragazzi? due solo che fa la fattura dovresti realizzare in strada perché Matteo paga le tasse eh sì le tasse Matteo le paga le tasse io non le pago neanche io sono dei pedraus e il nome della fattura? Matteo di Matteo questo è si voglia mi puoi dire quando sta in giro? a quanto prima? si 0 2 3 5 eh lo so la live lo finisce mai? ehm l'avevi detto anche l'inchimaro la live non finisce mai un attimo eh ora arrivo allora eh muoviti a vedere 10 0 2 3 5 5 7 10 4 4 4 4 4 4 9 ok mi cerco un attimo no no un lotto su ho no no 3 5 5 7 10 4 è strano perché è la signora che ci sta la mattina di solito ma da un tempo fa? no un mesetto fa io infatti avevo mandato un posto non mi avevi mai risposto, avevo mandato anche un'email non riuscivo a inserirla però se mi dici un attimo un po' te lo inserisco subito si ma guarda te lo faccio così nuovo cliente ok codice del senatario codice del senatario codice del senatario M5U M5U X Ori mi fai un caffè poi per la signora? C R ok ragione sociale quella del prima con la partita IVA guarda mi sa che facciamo prima game si può fare? si 0-2 0-2 3-5 ok 5-7 10 4-4-9 4-4-9 perfetto così la prossima volta allora stai registrato o posto? si si infatti mi dice hai che gli ho mandato un messaggio guarda partita IVA codice piscale? ehm mcc 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Macchiati, Matteo, con due C. Grazie a tutti. 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 Mettete pure due Cischiando. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè, vabbè, noi andiamo. Vabbè, ciao. Ciao, ciao, ciao.